Assessore Marcheggiani, novità per quanto riguarda la raccolta degli oli vegetali esausti in città, nei vari quartieri avete posizionato degli appositi contenitori proprio per questa raccolta? Sì, abbiamo triplicato questi contenitori per la raccolta differenziata di questi oli, soprattutto oli di frittura e soprattutto che hanno un risvolto di tipo domestico in quanto i ristoratori sono già dotati di una rete obbligatoria di raccolta di questi oli e quindi cerchiamo di intercettare con una campagna di sensibilizzazione tutti i cittadini dall'inizio di luglio, dai primi di luglio ci sarà questa campagna che si svolgerà in tutte le piazze della città, in tutti i rioni, mercatali e quindi noi contiamo di migliorare avendo posizionato il triplo dei contenitori passando da 7 a 20, sicuramente questo tipo di raccolta è molto importante, sembra una piccola cosa ma è un gesto veramente importante che esprime attenzione e cura all'ambiente in quanto questi oli sono veramente dannosi in quanto creano un velo, una pellicola che può creare dei problemi al depuratore, alle fogne e poi sicuramente al mare dove vanno a finire. Vi aspettate ovviamente la collaborazione dei cittadini attraverso questa campagna di sensibilizzazione? Sicuramente sì, i cittadini riceveranno, quelli che collaboreranno in dono, un ridetersivo che è fatto proprio dagli oli esausti recuperati.